allora suono buono pulito target sembra simpatica devo ancora guardare da qua già si comincia a vedere vedete vediamo cos'è una monettina un bel soldo che roba è vediamo un po suonava bene di solito sono sempre lattine tappi abbiamo 5 centesimi 1852 è anche tenuta bene con una bella patina impero che è scritto non si vede austro austriaco ma è interessante questo mi mancava bene ci vediamo al prossimo target